Mi chiedo un attimo di pausa per le domande perché le porremo tra 5 e 10 minuti. Chi è Flestart? Ci sono diversi nostri operatori, clienti ovviamente, in questa sessione e anche tanti amici e tante amiche nuove che ci stanno conoscendo in questo momento. Noi siamo uno dei tre DNS sicuri più veloci al mondo, siamo noi e DNS Filter e Cloudflare. Ora disponiamo di una rete di circa 700 partner e siamo distribuiti in 157 paesi, qui 156 però c'è lo Zimpau in più che è stato chiuso questa mattina. Questa è la nostra rete Enicas, quindi la rete con la quale noi facciamo muovere i nostri servizi. In Italia abbiamo Milano e Bologna, poi stiamo anche attivando Roma come peering su NAP e poi ci dislochiamo in tutti i continenti, in tutti i vari paesi. Perché diversi operatori ci stanno, vedo, scegliendo? Perché intanto è dal 2011 che facciamo Parental Control e ovviamente li abbiniamo anche alla parte di Malware Prevention. Perché ovviamente voi comprate un servizio di Parental Control per adempiere questa normativa, però sappiate che dentro c'è anche tutta la parte di Malware Prevention, di Malware Control che è compresa e che è molto importante per una rete Internet Service Provider perché ovviamente vi permette di avere meno problemi e anche di avere meno colli di bottiglia sulla banda. E vi evita, un'altra cosa che è molto importante, vi aiuta, vi ripara, vi ripara chiaramente nell'evitare che i vostri indirizzi IP poi cadano nelle blacklist per cui siano bannati e siano censiti come IP che sono marchiati come malevoli. Volevo condividere lo schermo, ok, mi confermate se lo schermo, se è visibile per piacere, mi confermate in chat se si vede lo schermo, grazie, mi date un cenno, si vedono adesso dei grafici, dei numeri, ok, grazie. Questa è l'interfaccia e lato ISP di Flestat, quindi l'ISP può amministrare la protezione, qui vediamo un recap dei dati che vengono rilevati, tutta la parte di filtering si basa sul protocollo più democratico e più antico che c'è al mondo, che è il DNS domain name system, quindi leggero, economico e si adatta su qualunque tipologia di rete, di router, di operatore, da MicroTic a Cisco a D-Link a Palo Alto a Fortigate, quindi possiamo configurare un DNS sicuro filtrato dovunque. Qui vediamo dei dati, di esempio, come le minacce malware rilevate, le richieste bloccate, i siti non esistenti, i cosiddetti not existing domain e invece qui abbiamo le richieste DNS totali. Poi sotto abbiamo dei report, quindi il report per categorie bloccate, pubblicità, botnet, statistiche, siti malevoli, gioco d'azzarlo, che è una delle categorie che è consigliato bloccare. Qui abbiamo i siti invece consentiti, CDN, software, social network, servizi online. Sotto abbiamo invece i domini malevoli più bloccati, quindi c'è strbiz.site che ha contato 334 blocchi. Qui abbiamo le statistiche tra consentiti bloccati, NX malware e anche bloccati per IP. Qui c'è anche la parte di p-blocking che sarà molto utile nel blocco per l'antipilateria, ossia noi possiamo bloccare qualunque dominio, qualunque sito web venga risolto con un indirizzo IP che è stato considerato compromesso, che è stato considerato malevolo. Chiaramente su un IP ci sono più siti, centinaia, migliaia, decine di migliaia. Quindi se quel server è compromesso, se quel server è pirata, se quel server ha fatto uscire comportamenti non legali, noi possiamo bloccare qualunque risoluzione DNS su quello specifico IP. Qui c'è anche il blocco per applicazione e anche la statistica per applicazione. TikTok se vedete è uno dei driver fondamentali. Qui invece abbiamo il grafico per attività geografica, quindi quante richieste verso quali paesi, Stati Uniti, Cina, Europa, Irlanda, Germania. Qui abbiamo i domini più bloccati e invece qui abbiamo le statistiche per fascia oraria. Se io vado sulla scheda protezione, qui vedo due moduli fondamentali. La parte di threat protection, quindi c'è la parte di malware, ce ne sono veramente tanti, dai malware, dalle backdoor, alle botnet, alle criptovalute, ai DGA, che sono i domini generati tramite algoritmi, finale d'exploit, al phishing, frodi. Poi abbiamo invece la parte di content filter, quindi la parte oggetto del nostro webinar. Qui abbiamo intanto nelle block list nazionali, abbiamo intanto già servite la black list dell'Agenzia per le drogani monopoli, che è importante bloccare, e poi l'agico ma autorità e le comunicazioni, anche i provvedimenti, cioè quella dei tribunali. Loro mandano i tribunali la mail, la PEC, dicendo che un certo sito deve essere bloccato per legge. Poi ce ne sono varie, c'è quella inglese, c'è quella peruviana, c'è l'antipedofilia inglese, quindi ci sono diverse black list nazionali di governi e di fondazioni. Qui c'è la parte invece per adulti, qui troviamo il gioco d'azzardo e la pornografia, qui poi troviamo diversi siti come per esempio siti di tempo libero che vogliamo comunque bloccare, però la parte che a noi ci interessa maggiormente saranno i siti per esempio di droghe, gioco d'azzardo, pornografia e sessualità. La parte invece di 7 e la parte di siti che parlano di salute in modo fraudulento sarà inserita entro la prossima settimana, quindi stiamo arrivando alla roadmap in tempo già per la prossima settimana. Poi troviamo altri moduli, qui c'è l'app blocker, per esempio se vogliamo bloccare Tinder come applicazione lo possiamo fare. Questo va molto bene se lavoriamo in un contesto commerciale, quindi se vendiamo il nostro filtro per esempio all'azienda oppure alle scuole oppure alla pubblica amministrazione, perché Flash Start lavora certamente con l'ISP ma l'ISP è un mercato, poi tanti di voi avranno sicuramente clienti che sono aziende, che sono scuole, che sono PA, sulle quali invece potete vendere la parte di filtro DNS. In questo caso certe categorie che normalmente nell'utenza di tipo ISP si lasciano attive, in un contesto lavorativo invece vengono bloccate. Qui invece c'è la parte di blocco per IP, ossia noi possiamo bloccare tutti i siti che vengono risolti sui domini che sono associati ai P malevoli, addirittura possiamo anche filtrare se abbiamo dei contesti di minorenni le ricerche su Google Bing e su altri provider minori e anche su YouTube. Quindi se io digito per esempio foto di donne nude e faccio immagini di Google, lui mi blocca anche l'anteprima, la preview delle ricerche di Google. Questo oltre al modulo che permette quando clicco per esempio su youporn.com di essere bloccate. Per la security qui abbiamo un altro modulo che è il geoblocking. Come funziona? Qui io posso, queste sono ulteriori protezioni, io posso bloccare la risoluzione DNS verso siti internet che vengono ospitati in server di certi paesi. In questo momento la minaccia maggiore viene con la guerra fredda conseguente alla guerra vera tra Ucraina e Russia, viene dalla Russia. Se la vostra clientela non deve andare su siti che sono ubicati nel territorio russo, noi possiamo bloccare questo transito, questo traffico e aumentare sensibilmente poi la sicurezza nella nostra rete, nell'ISP oppure nei clienti poi che andiamo a seguire. Corredano questo quadro poi le whitelist personali, io posso inserire delle eccezioni, per esempio se un sito viene considerato come bloccato ma ritengo che è un falso positivo, lo posso inserire qui sul sistema oppure posso integrare e posso mettere degli ulteriori blocchi, quindi delle ulteriori blacklist personali. Concludo l'esposizione, poi torniamo alle domande con l'avvocato Vincenzo Gallotto, con la cache DNS locale. Quindi Flaster Cloud abbiamo capito che lavora nella nube con una rete globale di server, bene. Poi l'ISP può anche scaricarsi una macchina virtuale per VMware, per KVM, per Hyperview, per Proxmox, siamo diversi formati, che installa nella sua rete, quindi è su un'infrastruttura virtuale. Sono macchine virtuali che richiedono requisiti minimi, due CPU e quattro giga di RAM. Questo serve per abbassare fino a zero la latenza quando siamo in cache e poi mi serve anche per attivare delle ulteriori sicurezze. Intanto io do l'indirizzo IP, che può essere pubblico oppure privato, sia il PV4 che il PV6, lo do alla mia cache locale, che lo chiamiamo Proxy DNS. Noi la chiamiamo Cloudbox, ma non è altro che un Proxy DNS. Questa cache, questo Proxy DNS poi invia le richieste alla rete di Flaster Cloud. È molto facile capire che se l'utente numero uno chiede sito.com, il Proxy DNS va alla rete di Flaster Cloud la prima volta e per i due, tre, quattro, cinque minuti di cache il Proxy DNS sarà autonomo, quindi vi porterà una latenza pari a zero nelle risposte. Ma non solo. Con la Cloudbox io posso creare più profili. Per esempio io qui posso creare un profilo chiamato Parental Control con un range di P, per esempio un range di quattro classi C. oppure posso crearmi un altro profilo chiamato Navigazione Sicura, che lo uso per esempio per quegli utenti che mi hanno richiesto di disabilitare il Parental Control perché hanno scelto, come dice la legge, di toglierlo, ma sui quali per maggiore sicurezza mia e anche loro voglio metterli soltanto la parte di malware. Noi possiamo gestire più profili con diverse configurazioni e poi possiamo mapparli, mapparli diversamente. Poco fa l'Avvocato ci ha anche detto che è possibile su certe configurazioni per esempio abilitare i siti pornografici di notte, da mezzanotte fino alle sei della mattina. Chiaramente il babbo, il padre di famiglia vi dice blocca la pornografia però da mezzanotte in poi lasciamela libera. Noi possiamo anche attivare dei blocchi per fascia oraria, io per esempio posso dire blocca il porno dal mattino alle 8 fino alla sera alle 23 e 30, quindi io metto di tutti i giorni, quindi io metto questa griglia di blocco. Prima e dopo, se il babbo oppure il nonno ancora peggio va su youporn.com, il DNS li risolve il sito. Diversamente in questa parte qui dove è bloccato, il DNS li risolve con la pagina di blocco. Completo con la Cloudbox, questa è una funzione che è molto importante, quindi la Cloudbox si configura tramite macchine virtuali e se andiamo sul sistema virtuale, non so se si vede, io ho anche un menu lato amministratore con alcune funzioni, quindi posso metterli IP, posso attivarla, posso fare gli aggiornamenti, abilitare gli aggiornamenti automatici, posso riavviarla e ho alcuni tool di diagnostica di base. Ciò ha anche due configurazioni molto importanti. Noi possiamo fare un export dei log, quindi noi possiamo scaricare sul formato CSV le richieste DNS che vengono fatte in chiaro, quindi per esempio io posso vedere che in diritti IP va su un sito di botnet 50.000 volte al giorno, con log export, lui scarica i log e poi li manda verso un server FTP, oppure con la funzione sotto io posso fare l'import di blacklist in formato RPZ, si chiama Response Policy Zone che è un formato standard. Perché mi serve? Perché mi serve l'importazione di una blacklist mia locale? Qualcuno di voi per caso mi ha sentito parlare della blacklist CNCPO dell'antipedofilia? Ve lo chiedo se qualcuno mi risponde sulla chat, se qualcuno ha sentito parlare della blacklist CNCPO, della polizia postale per l'antipedofilia. Questo è comunque un obbligo dell'ISP già da circa 10-15 anni, CNCPO. Nessuno la conosce? CNCPO. Nessuno la conosce? Ok, grazie. Praticamente la blacklist CNCPO sarebbe una blacklist che viene gestita dal Ministero, credo, delle telecomunicazioni, tramite la polizia postale, e nella quale vengono pubblicati i siti pedofili che vengono bloccati, che vengono rilevati. C'è una task force ministeriale che viene chiaramente gestita. Questa blacklist, tutti gli ISP la dovrebbero scaricare, c'è un certificato SSL che si installa e poi si mette uno scritto una volta alla settimana, una volta al giorno e a seconda degli aggiornamenti che hanno loro, la scarica. Noi questa lista non possiamo mettere sul nostro filtro cloud, perché sono liste personali che ogni ISP dovrebbe scaricarsi. Quindi cosa fate voi? Col proxy DNS locale potete scaricarla sul vostro disco, sul drive, automatizzarlo, e poi l'andate a trasferire, si può fare un upload della blacklist, della CNCPO, ma anche altre, sul vostro proxy DNS locale. Quindi ottemperate anche a questa normativa, pur essendo in regola, perché dovete far vedere, dimostrare che la scaricate e che rimane localmente dentro la vostra rete. Questo per dirvi che abbiamo anche la possibilità di sistemare e anche di fare ordine con questa ulteriore comunque normativa, che sebbene sia usata, ritengo, da pochissimi operatori, è comunque in vigore, ritengo almeno dal 2012-2011. Magari l'avvocato ci dirà se non vado errato. Vi chiedo se è tutto chiaro o se volete riprendere qualcosa.